La passione di Gesù Cristo di padre Gaetano da Bergamo 23 ottobre Gesù è condannato a morire in croce. Punto terzo mentre viene letta la sentenza della sua morte Gesù rimane immobile davanti a Pilato in un atteggiamento da colpevole ma visto che ha assunto tutta la debolezza umana quanto deve essere grande la pena del suo cuore nell'udire quell'ingiusta condanna. Non possiamo infatti dubitare che egli soffra tutto il tormento e lo spavento che provano i condannati al patibolo anzi soffre con un'intensità molto maggiore perché la sua sensibilità non è comune. Ma la parte superiore dell'anima quanto generoso coraggio irradia. Egli non cerca di sfuggire la morte ma le va incontro e l'affronta deciso a vincerla. Riflessione Gesù potrebbe far valere le sue ragioni lamentarsi dell'ingiustizia ed appellarsi a un giudice di grado superiore ma non lo fa. Quando i giudei si erano ribellati contro di lui stringendo in pugno delle pietre egli aveva domandato loro per qual motivo volessero lapidarlo. Ora non chiede perché lo si voglia crocifiggere non oppone alcuna resistenza ma tace e non si sdegna né contro Pilato né contro i giudei anzi li compatisce. Benché la sentenza sia ingiusta l'accetta volentieri consapevole di dover morire per i delitti degli altri. Vedi anima mia come in Gesù si distinguono sia la fragilità dell'uomo che l'eccelsa virtù di Dio. Egli è venuto a redimere l'uomo superbo con l'umiliazione ma senza che in alcun modo fosse avvilita la maestà del Redentore. Ed è in quest'uomo Dio che la sapienza divina ha voluto darci un modello per la nostra vita. Proviamo però a domandarci che cosa abbiamo effettivamente imparato riflettendo sulla mansuetudine, sull'umiltà e sulla pazienza con cui Gesù ascolta la sentenza della sua morte per liberare noi dalla morte eterna e chiediamoci anche se abbiamo avuto qualche beneficio dall'esempio che Gesù ci dà delle virtù che ha praticato fino al punto di sopportare la perdita della vita e dell'onore. Colloquio. Gesù mio, ricevere un'offesa o un torto è un'occasione che tu hai preparato per rafforzarmi nell'umiltà e per imitarti ma io non ne approfitto e mi lascio andare ad atti di superbia ed ira che sono di cattivo esempio per gli altri. Degnati Signore di fortificarmi con il tuo spirito d'umiltà e di pazienza tanto da far nascere in me un profondo desiderio di imitarti. Fa che io ami il tuo onore e non il mio, la tua soddisfazione e non quella dei miei sensi. Concedimi inoltre di darti gloria sopportando in pace le avversità che la tua amorosa provvidenza vorrà mandarmi non tanto per castigarmi quanto per mortificare il mio amor proprio, per farmi fare penitenza e salvarmi. Pratica. È una regola rigida quella di accettare con umiltà e disonore ma diventerà dolce e suave se mi ricorderò che Gesù ha sopportato di essere trattato da infame e di essere condannato alla croce.